È una donna proveniente dal Sud America ad Arezzo per ragioni turistiche, la donna che era stata ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo positiva al virus della febbre dengue. È già stata dimessa ed è in buone condizioni di salute. La donna era arrivata in Italia una decina di giorni fa, aveva accusato il primo sintomo, la febbre, quando si trovava ancora a Roma. Una volta arrivata ad Arezzo si è accorta del secondo sintomo, un'eruzione cutanea e si è quindi rivolta al pronto soccorso del San Donato. È stata così ricoverata nel reparto di malattie infettive dove gli esami hanno confermato la positività all'infezione. Normalmente si autolimita, cioè le persone guariscono spontaneamente nel giro di qualche giorno. Può dare in casi più rari anche delle forme gravi, delle forme morragiche fino anche ad essere fatale, ma sono casi molto rari. Normalmente è pausci sintomatica e guarisce spontaneamente. Nei bambini è quasi sempre asintomatica l'infezione. Adesso è stata disposta un'apposita disinfestazione nelle aree limitrofe dell'ospedale San Donato di Arezzo, nella zona di Via Fiorentina dove la donna era ospite. Le operazioni avverranno nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Le persone dovranno tenere porte e finestre ben chiuse, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e raccogliere la verdura e la frutta prima del trattamento. Il virus si trasmette tramite la zanzara, la puntura di zanzara. La zanzara punge la persona che è nella fase viremica, cioè che ha il virus che sta circolando nel sangue e si infetta a sua volta e può, pungendo successivamente un'altra persona, trasmettere il virus ad altro. La zanzara che è implicata in questa trasmissione è l'Aedes albopictus, che sarebbe la cosiddetta zanzara tigre. Al momento non dovrebbe esserci una grande popolazione di questo tipo di zanzara, però per cautela ulteriore tramite il comune verrà fatta stasera la disinfestazione nei dintorni delle zone dove la signora ha alloggiato. Questi sono i sintomi da tenere sotto controllo. I sintomi di solito compaiono 4-5 giorni dopo la puntura di zanzara, compare una febbre anche elevata, con dolori articolari, a volte si associa nausea, vomito e dopo 3-4 giorni possono comparire delle irritazioni cutanee. Questi sono i sintomi più classici della malattia. In questo caso ovviamente il soggetto è bene che si rivolga al proprio medico facendo presente questa situazione.